Ben ritrovati da Simone Nardone, un nuovo appuntamento con il giornale radiolocale. Domani nuovo passo avanti in ordine alle emergenze legate al maltempo nel territorio pontino, dopo i sopralluoghi di inizio settimana a Itri, nei luoghi colpiti dall'alluvione del 2021 e a Formia, dove la scorsa settimana è esondato il rio fresco in zona Santa Maria la Noce, domani i sindaci dei territori colpiti dal maltempo, quindi compresi quelli della pianura pontina con i danni legati al tornado, saranno in prefettura per un vertice con il prefetto di Latina Maurizio Falco. L'appuntamento è per domani mattina nel Palazzo del Governo, nel capoluogo pontino. Tornati a casa i due campioni del mondo di basket, membri e protagonisti della nazionale italiana con sindrome di Down, che domenica hanno conquistato la terza Coppa del mondo consecutiva per l'Italia. Loro sono i formiani Chiara Vingione e Fabio Tomao, che sono stati letteralmente acclamati e festeggiati in quel di Formia dalla società in cui militano, ovvero la Basket Forever. Grandi festeggiamenti dopo la loro impresa sportiva in Portogallo e anche una torta con su scritto Campioni del Mondo. I festeggiamenti a fondo in onore del patrono Santo Norato, quest'anno dureranno la bellezza di tre giorni a darne comunicazione congiunta, il comune e la proloco del posto. La fiera avrà inizio domenica 9 ottobre e terminerà non prima della mezzanotte di lunedì 10 ottobre. Stende e bancarelle saranno presenti in centro, tra l'area pedonale e le strade circostanti, che saranno chiuse al traffico con apposita ordinanza. Sabato si svolgerà una sessione di trekking urbano, mentre domenica 9 ottobre, a partire dalle 21 in piazza 4 novembre, ci sarà lo spettacolo comico di Gianluca Giulia Relli di Made in Sud. A Sperlonga arriva la panchina gigante per tornare tutti un po' bambini. L'accordo di Sperlonga Turismo con la Big Bench Community Project, con l'installazione avvenuta grazie al trasporto, con l'elicottero sulla collina che sovrasta la grotta di Tiberio, è raggiungibile grazie al sentiero di Ulisse, continua a far parlare di sé. La panchina, seppur già installata, non è ancora aperta al pubblico. In questi giorni l'organizzazione sta provvedendo all'inserimento della panchina all'interno del circuito e ad assegnare il numero ufficiale come Big Bench. Per questo l'area verrà aperta solo dopo la cerimonia di inaugurazione, che avverrà il prossimo sabato 15 ottobre 2022. Attesa in diocesi per sabato 8 ottobre, quando ci sarà l'ordinazione sacerdotale di Don Andrei Chiosa. La celebrazione si terrà nella Basilica Cattedrale di Gaeta e sarà presieduta dall'arcivescovo Luigi Vari. Don Andrei è nato nel 1994 ed è originario della parrocchia dei Santi Lorenzo e Giovanni Battista di Formia, chiesa dove celebrerà per la prima volta la messa, domenica 9 ottobre, a partire dalle 11.30. Per chi non riuscirà ad essere presente in loco, la funzione di ordinazione di sabato sarà trasmessa in diretta sui media diocesani. Questa era la nostra ultima notizia, un saluto da Simone Nardoni a risentirci alla prossima edizione del giornale radiolocale.